Sfortuna soprattutto perché noi siamo una squadra sfortunata perché anche oggi abbiamo giocato bene, con personalità, con grinta volevamo fare a tutti i costi risultato positivo però in alcuni momenti siamo stati sfortunati e quindi non siamo riusciti a fare questo Juve secondo me ha giocato per il risultato e alla fine è riuscito a fare tutto quello che volevo Ora mancano due punti per la qualificazione in Europa League come giudichi la stagione della Fiorentina? Considerando anche che però a dicembre siamo stati anche prima Sì, ma questo è calcio alla fine siamo stati ottimi si parlava di qualcosina di più anche di Champions avere questo ha condizionato questa squadra però alla fine siamo sbagliati noi perché noi siamo quelli che giochiamo cominciamo il campo però alla fine dobbiamo finire questa stagione con tre vittorie e poi sicuramente abbiamo tempo di parlare anche per futuro e anche analizzare questa stagione Il calo mentale dell'AirTecnico come ha causato il valito Paolo Sosa lo avete sentito anche voi in squadra? Magari anche alcuni di noi hanno avuto questo però secondo me contro piccole squadre non siamo riusciti a fare i risultati poi questo partito dopo la partita si condizionava e si sentiva più pressione soprattutto quando giochiamo in casa però va bene è andata così e come ho detto abbiamo queste tre partite di salvare quello che si può salvare di questa stagione Grazie a tutti Grazie a tutti